Metodi naturali di induzione. Questa è la grandissima e super domanda che andremo a fare a Maria Chiara, ostetrica, ma prima di entrare nell'invio dell'argomento, lasciate che ci presentiamo. Io sono Matto Silva, osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi in attesa del terzo e ostetrica che accompagna le donne e le famiglie lungo tutto il percorso nascita. E aggiungo io, autrice di alcuni bellissimi videocorsi, tra cui il videocorso Preparto, il videocorso Allattamento, il videocorso Sul Perineo e tantissimi altri videocorsi che troverete nel sito mattosilloostopata.com e dottorsillo.com insieme a videocorsi per favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ora entriamo nel vivo dell'azione. Quindi, metodi naturali di induzione. Allora, sappiamo che ci sono tantissime cose che noi possiamo fare per evitare di andare incontro alla famosa induzione farmacologica del travaglio. Cioè, quando devono far partire il travaglio un po' prima di quello che è il tempo che richiederebbe il mio bambino, perché c'è una motivazione. Sappiamo che quando il travaglio parte con un'induzione farmacologica, ci sono tutte delle dinamiche molto diverse dalla fisiologia. Quindi, cerchiamo di ridurre questa evenienza quando è realmente necessario. E prima di arrivare, facciamo una serie di cose che aiutano il nostro corpo e il nostro bambino a prepararsi al grande viaggio senza grandi rischi. Quindi, che cosa possiamo fare se siamo vicino alle 40 settimane, alla famosa data presunta, o addirittura le abbiamo superate e non c'è ancora traccia di inizio di questo travaglio. Allora, prima cosa che noi possiamo fare, cari mamme e cari papà, avere rapporti completi, rapporti piacevoli e soddisfacenti. Perché? Perché quando una donna ha un rapporto sessuale, intanto vengono stimolati tutti quegli organi, il perineo, la cervice uterina, i tessuti vaginali, che saranno gli stessi che inizieranno a modificarsi, a cambiarsi durante il travaglio. E soprattutto all'interno del seme maschile sono contenute le prostaglandine, che sono delle sostanze chimiche, quindi di derivazione industriale, vengono fornite alle donne quando devono essere indotte farmacologicamente. Allora, prima di prendere quei farmaci, ce li abbiamo anche noi già presenti in natura, in maniera un po' più piacevole. Quindi avere rapporti proprio a fine gravidanza prepara il collo dell'utero e può essere quel quid in più che fa partire, fa scatenare il travaglio. Altra cosa molto importante, la stimolazione dei capezzoli. Sappiamo che il seno ha delle terminazioni nervose, soprattutto a livello del capezzolo, che permettono un grande rilascio di ossitocina. L'ossitocina è un ormone che, imparerete a conoscere durante il travaglio, regola tutto il viaggio delle onde, delle contrazioni, quindi permette a questo utero di iniziare a lavorare. Quindi una stimolazione prolungata e ripetuta durante la giornata in una donna a termine di gravidanza, per cui che ha tutti dei segnali molto accesi sull'attivazione dell'ossitocina, potrebbe aiutare a far partire il travaglio. Oppure ancora ci sono alcune sostanze che noi possiamo bere e che possiamo anche iniziare un po' prima delle 40 settimane, dalle 37, che contengono fitoestrogeni, cioè gli estrogeni presenti nelle piante e che aiutano il collo dell'utero e tutti i tessuti locali a prepararsi ai cambiamenti del travaglio. Sono la tisana al lampone, sono la tisana al fieno greco, tutta una serie di sostanze con determinati dosaggi che se iniziamo a prendere dal termine della gravidanza in quantità crescente, possono aiutare il nostro corpo a partire, ad iniziare questo viaggio con i tempi giusti di mamma e di bambino. Benissimo, grazie mille Mary, sei stata super esaustiva con questi suggerimenti come metodi naturali di induzione. Vi ringraziamo a voi per essere rimasti con noi, vi chiediamo di lasciare un like, di venirci a trovare sui nostri siti dottorsila.com e mattosilaosteopata.com e ci vediamo nel prossimo video.